ciao a tutti da Massimo e benvenuti a un nuovo appuntamento di I Love Italo Disco una puntata speciale perché parliamo di un argomento che a me sta veramente a cuore le copertine dei dischi le foto la grafica e lo facciamo con il grande Alessandro Gerini ciao Alessandro ciao Massimo intanto ti ringrazio per aver accettato grazie a te per avermi invitato per l'altro ringraziamo anche Weiner che mi ha fatto da tramite questo mio amico che ti ha contattato in privato è arrivato tramite i social ogni tanto i social colpiscono bene senza i social guarda non avrei iniziato mai a fare questa cosa perché poi alla fine non conoscevo nessuno tra virgolette e grazie ai social abbiamo fatto un grande grande lavoro Ale allora iniziamo questa fantastica cavalcata nel mondo delle immagini della grafica e raccontaci un attimino chi sei e come hai iniziato e poi andiamo a vedere quello che hai fatto guarda lì si sono stati veramente di una semplicità ma devo dire che era l'epoca dove tutto era semplice io in breve volevo fare il grafico e sai ad allora ti parlo del 76 77 potevi fare la pubblicità queste cose qua o le illustrazioni io siccome ero fattito di musica ma a un certo momento guardando le copertine dei dischi anche musica italiana ad allora c'è copertine strepitose ma perché mi metto a fare le copertine dei dischi e sai sembrava una follia ho guardato chi era lo studio più importante e sai ad allora non era come oggi ce ne erano due c'era lo studio tallarini mario convertino o andavi da uno andavi dall'altro io ho chiamato lo studio tallarini c'era la segreteria telefonica gli ho lasciato un messaggio divertente lui è rimasto colpito mi ha risposto sono andato da lui ho fatto vedere i miei disegni le cose e lui mi ha assunto ma eri giovanissimo sì ero giovanissimo avevo 19 anni cioè ad allora si faceva tutto prima tieni conto che io ho iniziato lo devo dire perché può aiutare io ho la quinta elementare non ho studiato ho molto orecchio per quello che parlo bene però la quinta elementare allora mia mamma mi ha detto allora ho lavoro io ti butto fuori di casa perché non è possibile allora cominciai a fare il grafico il mio primo datore di lavoro che aveva 16 anni ne aveva 21 aveva già uno studio con quattro persone so incredibile capisci com'era oggi no era è vero tu hai ragione perché non maggior parte di noi smetteva faceva la terza media andava a lavorare non è come oggi fino a 30 anni sei a studiare infatti io ho fatto il fattorino ho fatto tutte le cose più perché ad allora sai un ragazzo di 15 anni 16 che non studia in giro con il motorino che lo piglia è vero è vero è vero è vero è vero mi ha preso dalla strada è stato molto carino lì poi c'era gente in gambissima e la mia prima la mia prima copertina che ha avuto successo lo studio tallarini è stato quella che poi tu farai vedere quella dei pucco tropico del nord ah è stata la prima è stata la primissima che ho fatto allora ve lo faccio vedere subito a tutti noi ascoltatori anche a te eccola eccola qua questo diciamo è il mio inizio perché questo questo specchietto c'è un aneddoto brevissimo ci siamo incontrati in questo questo questa location con i pu e questa è la macchina di luciano tallarini il mio capo siamo andati insieme lo specchietto della golf e lui lui non sapeva diciamo ma che facciamo con i pu vogliono una roba un po tecnologica sa da allora allora io gli ho detto senti luciano facciamo una bella cosa e facciamo un contrapunto tra la modernità e la voglia di evasione per cui fotografiamo lo specchietto della tua macchina poi inseriamo i caraibi e c'è questa location tecnologica lui mi ha guardato mi fa secondo me sei scemo mi ha detto però facciamo così siccome io altre idee non ne ho lo facciamo se va bene bene se non te ne vai fuori a funzione perché sai non c'era photoshop sì sì certo per cui a oggi vederla fa sorridere ad allora erano cose ma come è stato messo allora diciamo i tropici nello specchietto i tropici sono stati ritagliati da una foto con la colla cartoncino e poi erano tutti in stampa che spettacolo io ho dato una botterellina d'aerografo intorno ai tropici per vedere in qualche modo di inserirla con lo specchietto insomma diciamo che per i tempi andava bene poi c'è questo palazzo in cui riflette anche il palazzo del palazzo dove ci siamo incontrati a colazione con i tuoi ma è fantastico comunque te ale avevi diciamo questa inventiva dentro di te sei partito subito alla grande non è che sì sì ce l'avevo perché era un po dettata dalla disperazione un po dal divertimento sai che dicono in necessità fa virtù è vero è vero è vero dai facciamo questa cavalcata poi almeno andiamo a parlare di aneddoti di curiosità poi alcune domande da farti allora andiamo in condivisione e iniziamo questa cavalcata insieme allora questa dunque lui era in quel momento un pianista straordinario stefan schlask ed era era un grande fotografo karim che poi scomparso per naturalmente che lavorava per la baby records e mi invitò a fare questa copertina copertina della quale non sono non ero convinto di questa scritta così buia che già però insomma io a qui ero ragazzino cioè non avevo nessun potere lo stanzito tasci mosca fai il disco e ringrazio dio perfetto ecco berri menilov è stata una copertina che io ho preso abbastanza sotto gamba perché era una specie di grete stizio una cosa così e invece mi dette una grande grande soddisfazione perché arrivò un fax di berri menilov personalmente ringraziando il grafico sai berri menilov io non sentivo il peso non mi rendevo conto che in effetti in america berri menilov è un mito ho fatto questa copertina così e poi alla cgd arrivato un fax allora c'erano i fax ha detto complimenti firmato berri menilov è stata una cosa che mi ha emiato molto prestigio per la cgd in quel momento apple quale era vabbè era il modello che quel momento andava fortissimo certo e che poi diventerà il marito di quella famosa attrice strepitosa che adesso viene il nome un'attrice americana che ancora adesso lavora ed è bravissimo poi abbiamo allora qui c'è un aneddoto ragazzi è bellissima questa copertina allora questa copertina e c'è un aneddoto che ti giuro io ogni volta che vedo questa copertina mi sento male allora questo fu veramente il primo lavoro un po di svolta perché gino paoli erano anni che era un po diciamo nell'ombra e in quest'album c'era una canzone estrepitosa per cui la la five record che mi sembra che la cara discografica mi dà questa copertina si fa tutto se non che io non vedevo l'ora di vederla nei negozi vado alla ricordi qua a milano sei dove spungo tutte le copertine guardo la copertina bella bella poi un certo momento la guardo bene è sbianco la copertina è uscita con scritto gino poli allora io non respiravo più e ho capito tutto cos'era successo devi sapere che ad allora si faceva con le trassette le scritte per cui nell'ansia tutto io ho scritto gino poli nessuno ha corretto perché quando si lascia la copertina c'è qualcuno che guarda la segretaria produzione le correzioni l'errore era talmente grosso che otticamente andavano a vedere magari tutti i crediti ma gino paoli se io scrivo gino poli insomma stati fatto che quando sono arrivato a casa mia mamma era sulla porta mi fa ale cosa hai combinato ci sono venti telefonate della fininvest vabbè li volevo morire però poi insomma è passata l'hanno ritirato e l'hanno ristampato subito e un po di colpa se l'è presa anche perché ha detto sì gerini è un cretino però altrettanto cretino perché lui non è che ha dato la copertina in stampa della lasciata una settimana gino poli poteva vederlo anche qualcuno comunque questa è stata veramente hai ritirato fuori proprio una magagna vabbè dai corretta però dai bene bene umberto tozzi umberto tozzi urrà e allora con umberto tozzi ci siamo rincontrati dopo tantissimi anni questa è una copertina che io ho fatto insieme al mio capo cominciano tallarini è umberto tozzi simpatico ombroso però simpatico e dopo trent'anni mi ricordo sette otto anni fa lui mi ha chiamato e si ricordava perché ero diventato fotografo insomma che lavorava un po per tutti e ha voluto rilavorare con me abbiamo fatto delle foto sì 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 flavia fortunato questo è qualcosa che arriva dalla ricordi o dalla phone eccetera momento momento suo d'oro di starletta sì che poi tra l'altro una copertina anche molto semplice sì queste sono le cose che si facevano sì 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 e motion già da allora era una cosa che tendeva la new age all'ambiente a quelle cose contestatissima dal cliente che diceva che era tutto triste era tutto tragico e lì sono stati degli anni di lotte dure perché io volevo staccarmi da quel mondo colorato anni ottanta che hai fatto vedere tutti può fare fortunato quelle cose facili così perché capivo che stava arrivando qualcosa di più serio però sai disco grassi volevano sempre i colori le cose il viola ad esempio che è un colore che io adoro che è molto rock il viola in italia adesso è stato sdoganato però ad allora il viola non si poteva usare perché dicevano che portava sfortuna Amanda Lear Amanda Lear è la prodotta da mio zio mio zio Antonio Gerini che è stato famosissimo con Sanremo ha fatto Sanremo con Aragonzini era un grosso impresario lui l'aveva veramente scoperta Amanda Lear ha portato in Italia per cui fatto questo lavoro con lei devo dire una donna di una simpatia hai fatto anche la foto no l'ha fatto no no è venuta in studio l'ho incontrata e devo dire una persona niente e lo sappiamo tutti grande cultura grande intelligenza certo questo è stato il salto quando io me ne sono andato dal dallo studio mi sono messo in proprio e qua già si vede che abbandonavo completamente le cose tutte leggere carine così per fare qualcosa di più serio infatti questa è stata una copertina che era veramente avanti ad allora perché c'era già c'era già del minimalismo del concetto l'arte stile libero tutte queste cose passengers allora io siamo nel 1985 sì io sei anni prima quasi dicembre 76 per i passenger avevo fatto la avevo fatto robot la con una comparsata in un loro video che è una cosa che da morire da ridere perché il successo di tutto su quel video io vorrei rivederlo perché a me mi hanno truccato tutto d'argento e mi muovevo facendo robot e poi immaginare che cos'era come video non sono mai più riuscito a trovarlo darei l'anima per rivedere questa cosa veramente divertente fantastico ancora Paul si ancora lui poi abbiamo anche Bruno Lauzzi è stato una persona meravigliosa come dicono tutti c'è stata un'amicizia favolosa perché sai a quei cantanti ti faccio una parentesi non è facile almeno nel mio ruolo fare un'amicizia perché purtroppo c'è un conflitto di interesse che il cantante se si diventa amici o troppo si sente poi obbligato a doverti far fare la copertina per cui sta abbastanza distaccato il rapporto anche da parte mia perché poi si crea la tribù perché poi il cantante anche geloso si comincia a fare le copertine solo per lui poi si scelta guarda dopo ne parleremo perché poi con le foto entriamo proprio quando cominciamo a fare il fotografo c'era proprio lui invece è proprio carinissimo una persona stupenda poi sono stato a casa sua con sua moglie comunque è carina questa idea invece piccolo grande uomo dove c'è lui in basso questa gigantografia e poi questo pennello sì infatti ti dico sempre riportato ad allora ad allora erano cose un po' come rivediamo oggi film degli anni 80 ci fa sorridere ti dirò che io ho rivisto thriller di michael jackson con le tecnologie di oggi però mi immagino ad allora insomma sì 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 erano forti poi questa compilation senti a me questa proprio io non te la ricordi? no no me la ricordo perché perché guarda mi è da morire da ridere perché su questo servizio fotografico erano tre persone che le hanno messe insieme per farlo si sono litigati uno con l'altro e poi si è litigato il fotografo una baruffa ah veramente? sì però sai cos'è? si rideva da loro io ridevo come un matto perché a me vede l'Itteltoni che si vuole amminare col fotografo e questa Rosana Fratello Rosana Fratello c'è una gazzarra dentro e ci si diverrà ma qual è stato il motivo se ti ricordi della gazzarra? guarda il motivo è stato l'attesa di Bobby Solo scusa di Little Tony che è arrivato in ritardo e il fotografo era un fotografo di moda che ci capiva più un po' niente di musica allora era lì molto nervoso in studio perché non arrivava Little Tony a un certo momento arriva Little Tony Little Tony arriva come Elvis Presley perché è un po' convinto di essere Elvis Presley per cui è arrivato tipo star il fotografo che cadeva da Vogue, da un mondo così lo guarda, guarda tutti noi fa ma chi cazzo è Little Tony? ma è venuto a fare un pieno davanti a lui lui è esploso oh, c'ho 50 anni di rock'n'roll mi viene da di chi cazzo sono io ma io d'ammazzo un casino guarda mi viene da ridere grande, fantastico Ned anche questa è una compilation alta tensione questa è una compilation che era molto sono stati i miei primi lavori con l'aerografo sì sì, bellissima alta tensione con la presa nella sua semplicità ma con questi colori sì, sintesi i tentativi estremi cercavamo proprio di andare avanti però colpivano per noi che si andava a acquistare il disco e si vedeva con questi colori anche sbagliando noi ecco, la cosa che vedo oggi che tutto è standardizzato io quando parlo con un giovane che dico ma no no, oggi sai se vuoi lavorare bisogna fare così noi invece anche sbagliando cercavamo di fare qualcosa di nuovo di uscire dagli schemi perché capivamo che sennò non diventavi nessuno cioè stavi nel nel branco hai capito? ancora la mandalia già più bella sì, già qua c'è sì, siamo già su un passaggio certo, certo poi questo disco Classics Crystal qui siamo nella disco sì, nella disco sì, nel proprio disco dove che dove vedo con piacere perché io ogni tanto faccio del compilation bellissimo con YouTube perché veramente è una gioia ti tiri giù delle cose stupere e vedo che quando vado sulla disco o sulla synth pop tornano queste copertine perché c'era proprio quest'onda della matematica del numero dello spazio sì, queste righe tipo cubo questa prospettiva sì, si cercava siccome non avevamo il computer lo si creava quasi che poi sono un po' le interfacce che abbiamo oggi sui computer queste cose sì, sì ma come si creava una cosa del genere senza computer? guarda no, guarda ci si faceva ci si faceva un paiolo infinito perché si faceva tutto con l'aerografo per cui si stendeva questo cartoncino dovevi avere in mente esattamente cosa volevi fare perché non si tornavi indietro non potevi cancellare dovevi buttare se non ti piaceva buttai tutto ma avevi massima libertà o avevi delle imposizioni allora guarda io ti dico la verità qui avevo massima libertà perché su queste cose non ci capia nulla nessuno anche perché eravamo veramente due o tre persone a fare sto lavoro per cui il discografico vedeva queste cose l'unica cosa che il discografico ti diceva guarda fammi la copertina di glasses e poi ti dico a voi andavi lì facevi vedere e lui magari ti diceva senti bella cambiamo un po' sta macchia qui fammi la rossa che mi piace addio buttai tutto ma ti legavi diciamo ascoltavi anche il pezzo o no allora io siccome ero appassionato di musica e poi negli anni suonerò fanno qualcosa con la moda con la musica elettronica è stata una mia passione io non solo ascoltavo il disco ma io cercavo di andare in sala incisione cercavo di beccare quel momento di intruffolarmi e di spostare la discussione del disco in sala per cui siccome è un discografico abbastanza pigro io ne approfittavo chiamavo e dicevo senti allora ma mi fai sentire il disco sì però sai quando viene guarda faccio così dimmi dove sono che prendevo il motorino e vado in sala ecco bravo vai così fate voi e allora così mi intruffolà è bello perché vai in sala incisione a parte conosci l'artista senti il brano in sala conosci gli addetti ai lavori che poi per me gli addetti ai lavori sono magici quando conosci il fonico io poi legavo amicizia con gli addetti al lavoro un mondo meraviglioso fantastico e vada e vada ma e vada proprio non si sa dove andava sono appartiene al mucchio di tonnellate che si fa ok 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 abbiamo tiziana più beh qui gran lavoro i parrucchiere devo dire qui ha preso più soldi i parrucchiere di me di sicuro lo vedi con la torre Eiffel ha fatto un extension incredibile fantastico fantastico questo è Raffaella Carrà se non vado errato si è Raffaella Carrà si 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 questo è un lavoro credo fatto con la phone con la phone eccetera questo è un lavoro che mi mi passò Mara Maiocchi che apro parentesi gli devo tutto perché Mara è stata veramente come una mamma mi ha preso da zero mi ha dato veramente la possibilità di espormi con l'album di Mango che è stato il vero primo lavoro che mi ha fatto notare addirittura quell'anno c'era una rivista molto autorevole che si chiama Tutti i frutti non so cosa di musica dove vinse la critica di più bella copertina mi dette proprio poi Mango è un successo incredibile penso che poi ci sarà nel corso di questa altrimenti la riuperiamo i gatti di Vicolo Miracolo eh questo anche qui roba che le produzioni erano folli c'erano tanti soldi veramente si spendeva compilasio Boomerang eh qui ragazzi ad allora per me quando la produttore mi ha detto senti impegnavo due belle bambine e ho detto guarda the best disco possiamo dire the best anche altre cose sì 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 per allora ecco questo è il 45 questo è il 45 questo è il 45 e dove io volevo solo il disegno astrappista però mi fu imposto perché lui andava a Sanremo con questo 45 per cui bisognava mettere l'immagine e l'immagine sai non c'era niente perché lui ancora non era famoso qui c'è un'immagine così io invece nell'album devo dire che ancora oggi l'album Odissea è un album come se fosse stato fatto oggi non a caso è stato proprio quello che mi ha dato mi ha dato il passo giusto certo andiamo a vedere appunto la copertina di Odissea di Mango ve la faccio vedere eccola oh ecco e ragazzi questa sta ancora in piedi oggi e raccontaci e questa è stata la svolta perché io facevo delle copertine diciamo minori dei lavoretti di ruolo in fone eccetera con la Mara a un certo momento è arrivato il disco importante si capia che era importante era importante perché Mango era un personaggio straordinario andava a Sanremo io non ho osato neanche propormi perché ho detto chiaramente io sono uno qui subalterno cioè di ruolo e chiaramente qui chiameranno uno grosso di quelli già famosi Mara buttò lì con suo marito Alberto Salerno che tutti conoscete che è uno dei più grossi autori parolieri e gli disse senti Alberto facciamo fare la copertina a Gerini e lui questo snobissimo fece ma no Mara dai Gerini ma è un ragazzino ma no chiamiamo qua chiamiamo là lei si incazzò disse ma perché non diamo una possibilità a sto ragazzo ma dai ma è bravo secondo me fa una figata insomma litigarono lei si impuntò perché Mara quando si impunta ragazzi vabbè è un'idea ce l'abbiamo tutti allora lei mi ha chiamato e mi ha detto ascolta Gerini perché lei ti chiama per cognomeno che è una forma di distacco un po' così ascolta tu devi fare la copertina io mi ci mi ci gioco il culo il phonist ti dico solo che se sbagli ti tolgo la pelle io sono tornato a casa in un panico totale e niente davanti a a casa mia stavano facendo dei lavori in corso per cui c'era questo palazzo e insomma ho messo insieme questa roba e disperato sono andato da lei sai quelle cose che gliela fai vedere intanto stavo già con la testa verso l'uscita e lei ha esordito sai come fa lei cazzo se è giusta questa era la copertina grande grande e devo dire e questa è stata avere poi nel book questa copertina chiaramente quando andavi in giro l'aprivi e il lavoro veniva da sé cioè non stavano più a sfogliare il book sai sai il book quando vai avanti basta all'inizio devi avere duemila cose per convincere insomma quando cominci 4-5 colpi discografico chiude il book ok allora parliamo del lavoro fantastico fantastico complimenti devo tantissimo amare complimenti complimenti andiamo avanti la nostra carrellata velocemente qui abbiamo l'oretta Goggi sì bellissima sì 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 poi Gasibo eh Gasibo Gasibo per la Carosello mi sembra e Gasibo era in un momento di difficoltà di difficoltà e tentava una svolta un po' non lo so un po' rock così però insomma e lui purtroppo è legato a quel mondo lì della dance sì non c'è poi abbiamo Celeste Celeste vabbè favolosa lei simpaticissima che poi ho incontrato a Milano nei locali grandonna vitaiola insomma lei è un po' l'emblema della Milano da bere degli anni Ottanta protagonista di quel mondo poi D'Azu D'Azu Telephone ecco o D'Azu sai che questa me la sono dimenticata questa è tornata attuale perché adesso va questo genere lo fai dove che lo chiamano lo fai dove c'è questa immagine un po' anni 50 un po' così devo dirti che rivederla cambierei la scritta Telephone che è orribile anche questo D'Azu però lascerei questo telefono così che è bellissimo è quasi una t-shirt è vero è vero è vero è vero poi abbiamo Zanna eh Zanna questa qui secondo me è un'amica di Carrasco deve essere una corista infatti vedo Tony Carrasco sì Tony Carrasco sì 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 Frank Sinatra Gold eh Frank Sinatra è stato è stato prestigioso perché Frank Sinatra era una produzione che arrivava dagli Stati Uniti su licenza lui non ha dato l'autorizzazione a usare nessuna fotografia anche io ho preso la matita e abbiamo facendo questi colpi di matita l'abbiamo svoltata beh però poi Una Mina Fa di Mina Allora Una Mina Fa è una compilation invece Mina 25 è proprio un album che feci con il mio capo e che mi portò a casa di Mina che io chiaramente tremavo come una fonte Mina 25 e la una donna veramente simpaticissima e poi ha capito che ero un ero in berbe un ragazzino e mi ha messo molto a suo agio stava sfornando dei tortellini delle cose ha offerto dei dolcetti anche lei devo dire è burbera perché Luciano gli disse guarda siccome eravamo in pochi a usare l'aerografo gli disse guarda sono venuto con Ale così gli spieghi il lavoro per usare l'aerografo lei è molto carina tutto ha offerto i pasticcini e vedeva che ero un po' spaventato poi alla fine prima di andare via mi saluta l'abbraccio lei si toglie gli occhiali mi guarda così fa vediamo di non far cazzate sai questi personaggi come si sei sentito in quel momento è andato a Monza aveva la villa a Monza ti danno sto carico erano bravi poche parole ti davano non c'era il buonismo di oggi oggi io vedo specialmente gli ultimi lavori che ho fatto in Sala Decisione c'è un buonismo dove sono tutti i fenomeni si abbracciano uè fra raga grande lui è bravissimo sì sì però dopo sì dopo succede i macelli no questi erano molto educati però ti mettevano cioè la Mara erano molto diretti sì pane pane vino al vino se sbagli vai fuori non si perdevano in tanti amici e vedi Mara mi ha detto Ale sbagli a competire ti tolgo la pelle mi hanno fatto mi siamo faccazzate cioè erano pane il lavoro hai capito sì 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 altro celeste sì sì poi andiamo avanti Bobby Solo che lo ritroviamo Bobby Solo l'ho ritrovato dopo la rissa del servizio fotografico e lui è simpaticissimo ci sono fatti delle risate ancora perché lui vabbè lui è molto spiritoso è veramente spiritosissimo come persona sì 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 Vasco ecco Vasco è il mio tallone d'Achille perché ti spiego qui ci vuole un po' di umiltà per quanto tu poi io ho lavorato veramente devo dire quasi con tutti però c'è un mio cliente napoletano che secondo me ha detto la frase più bella del mondo lui mi ha detto il napoletano mi ha detto Alessà 31 non fa nessuno ed è bellissimo il fatto che 31 non lo fa nessuno è proprio vero che tutte le carriere c'è sempre un qualcosa che non ci sei arrivato e bisogna ammetterlo ma è la vita hai capito e Vasco Rossi è una persona che io ho adorato ci siamo sfiorati sempre però non siamo riusciti a lavorare insieme questa è una compilation siccome lui era distribuito ha avuto un periodo che lavorava per la Carosello che era la casa discografica quando lavoravo anch'io però aveva i suoi giri aveva le sue amicizie aveva le sue cose e purtroppo non aver lavorato con Vasco Rossi è la mia ciliegina mancante sulla torta è il mio 31 che non sono riuscito a fare Giuni Russo Giuni Russo spettacolosa qui c'è un aneddoto questa è una copertina veramente ad allora non c'era il computer e per fare questa cosa lei è venuta in studio da me abbiamo ho preso un proiettore l'ho messa contro il muro è stato proiettato questo tramonto su di lei e fotografato la proiezione con lei veramente e devo dirti che è un effetto spettacolare perché anche se lo fai oggi con il Photoshop noti la scontornatura nei capelli queste cose invece lì è tutto reale rifotografato è nata un'amicizia e quell'anno mi ricordo che la Giuni non era stata presa a Sanremo ed era ti dico sinceramente molto molto incazzata allora io gli dissi senti Giuni facciamo una cosa siccome io quest'anno a Sanremo non vado neanch'io perché non lo vediamo insieme vieni a casa mia e sai vedersi Sanremo con Giuni Russo è fortissima come cosa lei molto carinamente ha detto guarda sono a Milano anch'io con la mia compagna veniamo a vedere per cui sono venute da me gli ho fatto una spaghettata e ci siamo visti a vedere Sanremo insieme non ti dico non ti dico le risate perché lei chiaramente sai ci sono tutte le critiche i commenti i cantanti no e avere lei che ogni tanto questa canzone è una merda e poi cantava poi abbiamo sbevazzato è stata una cosa veramente fortissima Crisma Crisma beh Crisma è forti cioè due persone incredibili bella questa copertina i Crisma veramente incredibili molto avanti per allora anzi forse troppo secondo me non sono stati capiti erano veramente lei lui un gran signore un gentleman lui ancora uno che apriva la portiera lei dopo vent'anni che stavano insieme lei molto affascinante ho fatto due album con loro mi hanno sempre dato grande fiducia e poi una volta sono andato a colazione con loro persone di cultura con le quali puoi parlare di tutto sì ancora Gioni Russo sì questo è diciamo il discorso dell'album sì poi ecco questa Natascha Wind che è stato anche produttore mi sembra in quel caso allora qui c'è una storia questa è una una era la compagna che aveva da allora io avevo scritto questo questo brano che era in italiano e lo feci sentire a Mario Rapallo che era lo storico produttore di Vasco Rossi ecco perché ti dico ci siamo sfiorati con Vasco Rossi perché questo disco è prodotto da Vasco Rossi ti rendi conto la beffa cioè io sono riuscito a lavorare per Vasco Rossi e questo mi ha prodotto un disco perché se vedi dietro c'è scritto bollicine che è la casa discografica che aveva Vasco la sua etichetta e niente Mario Rapallo ha sentito il brano e però mi disse senti a me in italiano non piace vorrei farlo in inglese allora chiamò Bassi che aveva fatto Tarzan Voice me lo feci arrangiare e io avevo questa fidanzata che era tedesca e lui disse facciamo un provino con lei gli piaceva l'immagine e tutto ho fatto provino è piaciuto e l'hanno prodotto e per cui è stato uno dei tanti brani dance che sono usciti devo dire fatto molto bene perché Bassi insomma è un grande ad allora l'unico difetto secondo me perché non ha spaccato perché era troppo lento era un pezzo che in quel momento i lenti in discoteca non c'erano più era una cosa un po' new age un po' sì perché siamo già nel 1988 arrivava la house arrivava insomma hai capito perfettamente comunque pensa alla beffa io ho pure il disco prodotto la Vasco Rozzo perché i soldi li ha messi i Vasco Rozzo qua e non sono riuscito a lavorare con voi c'è anche questa di Vasco è Amazon Compilation non valgono non valgono sì sì proprio non vale bisogna essere bisogna essere sinceri perché c'è molta gente che vanta lavori incredibili ma poi il conto è quando è commissionato dall'artista queste sono licenze sì 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 ah vabbè Sabrina Salerno ragazzi che bella ma che bella bella e simpatica proprio bella hai qualche aneddoto con Sabrina? no c'è un aneddoto sul disco perché quando ho fatto questa copertina anzi questa secondo me è già la copertina perché poi ci sarà qualche altra copertina che vedremo di Sabrina ecco comunque sì allora ce n'è una dove lei mostra le sue bellezze e poi io tornando da un viaggio credo che anno è questa? questo è 88 ecco tornando da un viaggio mi ricordo dall'estate a settembre vedi una versione dove lei era completamente con una camicia lunga e io non capito ma come lo avevo io ho fatto la copertina che lei stava così praticamente è stato per i paesi arabi o paesi non so dove in Egitto insomma lei aveva avuto un botto con sto disco in paesi dove assolutamente l'ombelico non si poteva far vedere per cui il grafico di quei paesi ha preso la copertina e l'ha vestita tipo Barbie gli ha messo un abitino eh sì ecco ecco eh vabbè è visto più avanti più avanti è ancora una botta è ancora una botta devo dire anche coi fisici di oggi tu ti puoi immaginare vent'anni fa no di più vent'anni fa un disco così faceva gli incidenti qui siamo a quasi siamo 35 anni fa pensa a te che poi lei tra l'altro l'ho vista in televisione ancora bellissimo però era anche giovanissimo ma questa è sempre lei sì queste sono le foto interne ammazzo sono ancora più forti di quelle interne di forma fortissime e questo è il retro sì 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 vabbè compilation con Vasco Rossi di nuovo che ogni tanto riappare riappare andiamo avanti poi c'è questa Tina boom boom eh beh mi sa che boom boom c'è Tina non so ah questo ecco questo questo appartiene già qui dove divento fotografo qui siamo nel 1989 insomma sì qui ho cominciato ad avere la gestione completa dell'immagine il discografico mi chiama Ale Farvecchioni fai tu perché sapevano che con me si sollevavano da tutti i problemi che avevano già loro e qui devo dire lui persona gli è piaciuta subito l'idea di fare qualcosa del genere con questo cameo di questa donna così è disponibilissimo e va la persona ha un'intelligenza enorme perché un docente un professore di università e che vuoi fare Gianchiero Artegiani sì questo è un artista credo toscano questa foto l'hai fatta a te praticamente questo guarda sei non ti ricordi perché è bellissimo insomma come inquadratura come luce tutto il tutto il lavoro fu uno dei primi lavori che feci per la Polygram perché la Polygram era molto prestigiosa come casa e era difficile entrarci mi ricordo che la prima volta che andai col book che avevo già un book bello la Simona Crescenti della Polygram guardò i miei lavori e mi disse sono molto belli ma non sei ancora all'altezza di lavorare per la Polygram una botta sono tornato a casa e mi avevo buttato la finestra e allora dopo un anno sono tornato ha visto delle altre cose dove spingevo di più e mi fa adesso possiamo provare a lavorare e mi ha dato questo artwork da fare e gli è piaciuto perché ad allora ha intravisto e poi abbiamo lavorato anni con la Polygram vedi come erano duri non c'era il buonismo non c'era questa esaltazione che la minima cosa che fai è un fenomeno chi è questo? ah vabbè qui ragazzi questo è tutto core questo è l'unico cantante col quale siamo diventati amici Ivan Graziani il mitico mi ha quasi salvato la vita Ivan proprio anzi mi ha salvato la vita perché in una situazione disastrosa sentimentale all'inizio pensa che io Ivan Graziani non lo volevo fare perché io non lo conoscevo ed è un personaggio che detestavo beh detestavo secondo me è antipatico è una persona con la quale io non mi trovo e invece Grammitori c'è Tarosello mi ha detto vale vai a incontrarlo così così allora ho preso la macchina sono andato giù l'ho incontrato lui stava tutto serio lui ha un umorismo pazzesco cioè con Ivan abbiamo fatto dei numeri però è molto agro e allora mi guardava io parlavo del mio lavoro mi fa lui sta zitto poi si tolta gli occhiali mi guarda e fa tu pensi che io sia uno stronzo di la verità no ma Ivan ma figure no io lo so lo vedo da come mi guardi lo vedo da come ti compone tu sei convinto che sono uno stronzo anzi io sono anche convinto che non volevi neanche venire qua cioè io non sapevo più cosa dire poi si è diventati amicissimi e poi una volta mi ha sequestrato perché avevo penne d'amore così stavo per fare stupidagge lui mi ha detto guarda vieni giù che dobbiamo parlare di un disco del mio nuovo disco io sono andato giù con la macchina vado da lui entro in casa lui chiude la porta è una villa bellissima in Romagna e gli ho detto Ivan dimmi mi fa no ti dico niente tu adesso sei sequestrato 15 giorni qua da me tu vivi con me finché non molli quella persona lì se no la tua vita è finita con quella persona io sono stato 15 giorni con lui da soli personaggio meraviglioso ok qui abbiamo di nuovo Tina andiamo avanti poi abbiamo Irene Fargo Irene Fargo che mi sembra che è mancata poco tempo fa mi sembra Irene Fargo beh sì questa dice sì questo è proprio un colpo d'arte un colpo di pennello è venuto alla copertina Dick Dick è simpaticoni anche loro vabbè qui non si vede l'ora che si finisca il disco per andare al loro ristorante loro hanno un ristorante all'isola di White dove non ti dico cosa non succede tra canzoni personaggi bene Rossana Casale Rossana Casale tu pensa oggi uscire con un disco così è una copertina abbastanza spinta a direi tu pensa a fare un disco così oggi col mituti saltano tutti addosso sarebbe la fine tra l'altro è la complicatezza perché ti dico non essendo oggi si farebbe tranquillamente lei in studio invece qui lei è andata proprio in piscina si è presa la piscina però ti dirò che hanno una realtà cioè questa è proprio fatta in piscina con forza cioè non è un fotomontaggio no non puoi ma come fai e chi lo fa questo andava in piscina ed è fotografata dal sommozzatore perché dal vetro della piscina i vetri delle piscine se fai una foto viene brutto perché sono vetri molto spessi deformano perché devono resistere alla pressione dell'acqua per cui qua c'è il subacqueo calato dentro fermo con la camera e lei che si immerge sta in posizione però è di una realtà sconvolgente costi anche sconvolgenti sì sì è per Parise io ero innamorato di questa donna la trovo strepitosa e la foto è di Porcarelli che secondo me è uno dei più grossi fotografi di musica strepitosa e ogni volta che mi arrivava una foto di Porcarelli era sempre perfetta infatti guarda come si sposa bene l'artwork con la foto perché la foto è fondamentale sì sì perfetto ha una continuità impressionante sì è perfetto ancora Sabrina che ogni tanto appare Vasco Rossi di nuovo la beffa Francesca Alotta sì bello questo veramente molto bello poi abbiamo Itazenda Itazenda sì Itazenda carini sono andato a fotografarli Sardegna grande ospitalità persone meravigliose poi abbiamo gli articoli 31 ecco questo qui è stato un lavoro molto bello con loro poi dopo lavorai con Jay Axe e all'interno ci sono delle immagini anni 30 e devo dire che a me piacevano molto era era veramente l'inizio di quel mondo lì tra l'altro di dentro c'è secondo me una delle più belle canzoni italiane mai scritte è una chicca che si chiama La vita non è un film è una cosa da brividi e poi il loro produttore vabbè Godi è un genio Aldo Clementi ma Aldo Clementi penso faccia parte di una collana di musica classica sperimentale della Ricordi per cui è un lì carta bianca per fare le foglie totali certo certo Kelly Joyce Vivre la vie Kelly Joyce è stato veramente un pezzo non so se te lo ricordi che ha fatto il giro del mondo e questa foto è stata sono riuscito a farla grazie alla generosità di Eros Ramassotti che mi ha prestato il suo aero privato questo è l'aero di Eros perché noi eravamo andati con Eros a Londra a fare delle foto per il suo disco e faceva il duetto con Cher e quando tornai insomma la Universa mi disse guarda noi dobbiamo fare Kelly Joyce sarà un successo però vogliamo fare una cosa molto molto tosta molto cool allora mi è venuto in mente pensa che è bello metterla sull'aero privato e poi è venuto in mente Eros ho detto io ci provo l'ho chiamato Eros in queste cose devo dire che è veramente di un generoso gli ho detto guarda so che ti chiedo una roba potrei fare delle foto con l'aero privato mi fa e beh che ce l'ho mi ha richiamato guarda vai lì va al cam ho detto al comandante vai su poi fa sempre abbatura oh mi raccomando mi sporca i sedili mi fa cazzate è tutto così fantastico di nuovo un betto ecco questo è il Tozzi che ti dicevo che ci siamo ritrovati dopo 30 anni della copertina Urva sì sì Raff Raff è stata una bella svolta questo è stato il mio momento diciamo d'oro dove ho cominciato diciamo che Eros mi ha dato la visibilità più grande perché insomma non c'è niente a fare quando fai un lavori con Eros Ramazzotti che quando va male vendeva 12-9 milioni di copie e dopo hai capito basta infatti dopo Eros è arrivato Raff poi Piero Pelun sono arrivati tutti i nomi quelli grossi c'è un bellissimo aneddoto su Raff ma sì è forte raccontami allora qui lui voleva voleva prendere l'alba per fare il video per cui sai che l'alba dura pochissimo bisogna essere tutti pronti in due minuti prima dell'alba se non la perdi se la perdi è finito qui ha perso l'alba io facevo il fotografo per cui il mio problema non era solo fargli lo scatto ma il regista ha perso l'alba lui qua che non si può dire tira un'imprecazione e lo scatto è mentre tira l'imprecazione solo che non lo sa nessuno e sembra una cosa sofferta sembra una cosa sembra che dica qualcosa e questo è il suo fascino in effetti tira giù un madonnone dall'incazzatura lui non se lo ricordava il discografico neanche io sono tornato e mi ricordo che il discografico guarda la Warner guarda questa foto però bella è sofferta siccome questo era un disco sofferto questo è un disco che ha avuto un successo folle dopo anni di buio di Raff ha detto ci sta però soffre così tanto è un lamento è quasi sacrale è sacrale è sacrale infatti è un lamento è così è dato bene poi sono andato da Raff Raff guarda la copertina fa sai che ti dico mi piace è un lamento e sembra quasi che mi rivolgo al Padre Eterno eh sì gli ho detto ti rivolgi al Padre Eterno guarda è un lamento fa ecco sì sì facciamola così mi piace è così andata fantastico ma solo io so ok ok poi abbiamo Ilizfiba oddio quant'è bruttina sta copertina non so perché questo gatto mannaro ma non lo so queste sono le cose di Piero quando si mette in testa le cose oscillitiche probabilmente gli ho detto sì sì va bene usciamo con questo nudo ok Eros ecco qui è stato un lavoro che mi hanno fatto con Eros dove c'erano due fotografi questo mi ha dato molto prestigio la copertina di David LaChapelle che è uno dei più grossi fotografi al mondo tutte le altre sono mie perché in quel momento David LaChapelle ha detto io faccio solo la copertina tutto il resto non mi interessa Eros ha detto sì scusate anche la 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 ha detto scusate sì ma noi non possiamo mandare un artista a Los Angeles la LaChapelle costa come una Rolls Royce e mi dà una foto abbiamo bisogno di un altro fotografo e LaChapelle ha detto va bene sì lo capisco però lo scelgo io Alche Eros sta pure bisognere alle palle fa appure scegli anche fotografo allora gli hanno proposto me e LaChapelle mi ha scelto come secondo fotografo e devo dire che mi ha dato molto prestigio veramente essere scelto da uno dei più grossi al mondo questo Cesare aspetta sì sì ok Cesare Cremonini Cesare Cremonini abbiamo fatto due album all'interno ci sono le mie foto lui ha scelto questo disegno che tra l'altro è perfetto e devo dire Cesare Cremonini è veramente un gran signore una persona di una sensibilità enorme e ho lavorato molto bene con lui Gigi D'Alessio Gigi D'Alessio eh Gigi è forte in quel momento Gigi era era padre eterno faccia quello che voleva e per cui grande onore lavorare con lui e però ti dirò grande umiltà perché io quando questa è una foto che abbiamo fatto a Cinecittà negli studi e lui è stato molto carino perché io come sono arrivato mi ha trattato come se fossimo già amici fa Alissa vieni in macchina come ti faccio sentire l'album mi dici che ne pensi mi ha fatto sentire e sono stato lì in macchina con lui mi pianto stupendo e mi ha fatto sentire là mi piace così dai andiamo a fare le foto e poi ecco devo dire gran generosità perché sai che a Cinecittà ci sono tutte le maschere le guardie dei camerini sono gente che sono state tutto il giorno guadagna pochissimo e lui ha dato delle mance veramente sì una persona di qua Giussi Ferreri eh vabbè Giussi ragazzi questo è stato Giussi c'è proprio una Giussi è nata in studio perché lei era con questo carissimo mio amico produttore me l'ha portata lui l'aveva appena scoperta non aveva né disco grafico né niente e ci è piaciuta a tutti proprio la abbiamo cominciato a fare le foto e chiaramente senza soldi perché lei non aveva la possibilità nessuno ci credeva e devo dire che lei poi è stata molto carina perché quando è esplosa e lei in Sonia hanno fatto una riunione e ha detto toccatemi tutto tranne Alessandro Gerini io voglio fare il disco con lui perché mi ha dato è stato il primo che mi ha dato credito bellissima questa foto bellissima sì poi lei veramente è una trasformista si presta pazza completamente poi si può andare dappertutto con Giussi sì 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 cosa è spettacolo ecco Dori Ghezzi è stato un bel lavoro e che mi ha dato la possibilità di lavorare con il grande Fabrizio De André perché con De André sono riuscito a fare una pagina del Corriere tutto l'artwork di questo suo disco però con l'artwork fatto da me per il Corriere grande responsabilità perché la pagina del Corriere costava 100 milioni da allora e lei strepitosa ha avuto la possibilità non di conoscere di André però quando sono andato a casa da lei lui c'era almeno gli ho dato la mano una leggenda non stava già bene con la sua sigaretta chiaramente fisso io comunque ho scaricato alcune copertine io vi invito veramente a tutti i nostri ascoltatori ad andare anche su Discord GS insomma e cercare Alegerini e anche il sito dove praticamente trovate tutte le copertine su alegerini.com c'è praticamente tutto ti volevo dire Alessandro ma come si crea una copertina vincente cioè c'è un menu vincente guarda sai che me lo sono chiesto ultimamente allora ti dico la verità è come un film ogni tanto si mettono insieme il miglior regista i migliori attori tutto e non funziona l'abbiamo visto abbiamo visto film con Al Pacino De Niro Scorsese musica di eh dici vabbè torni a casa poi vediamo dei film indipendenti fatti coi debiti fatti in casa e sono dei capolavori è un'alchimia deve andare tutto insieme anche il disco di Giuse fu un'alchimia perfetta e certe volte anche in base a dei disastri io mi ricordo proprio il disco che hai fatto vedere quello dove lei è bellissimo famoso con quella cassa di legno e quello è venuto fuori grazie a un disastro perché c'era la style che gli aveva portato gli abiti di un grande stilista che era un disastro su di lei io mi sono reso conto che lei era nervosa io ero isterico ogni scatto era un orrore ho capito che non c'era la magia allora ho preso la style e l'ho caricata di peso su un taxi con i suoi vestiti l'ho mandata a casa gli ho detto Giuse mettiti il tuo giubbino di pelle da 20 euro se l'è messo su buttate per terra contro sta cassa di legno fatto la foto era la copertina se lei avesse puntato i piedi e ha detto no io voglio quegli abiti sarebbe stato un disastro e nasce proprio è un'alchimia dove ogni componente è fondamentale sì ottimo Alessandro hai diciamo qualche aneddoto? come vedo che questa trasmissione è riuscita perché fra me e te c'è stata una chimica immediata sì anche non conoscendoci sì è vero perché poi amici ascoltatori noi ci siamo conosciuti per messaggio qualche giorno fa poi alla fine io t'ho visto stamattina che si è aperta appena si è aperto lo zoom ci siamo conosciuti diciamo in faccia certo ti dicevo Alessandro hai qualche altro aneddoto? ovviamente abbiamo visto alcune copertine spero ce ne sono tante hai altri aneddoti che ci tiene a raccontare con qualche altra cantante? finiremo in procura ah allora niente dai salvaguardiamoci come si dice? ma te lo puoi immaginare ma diciamo l'Alessandro di oggi? ma allora se vuoi ti spiego il perché allora io ho dentro di me devo dire quello che mi ha salvato la vita è di anticipare i tempi io sono uno che ha lavorato sugli LP e parliamo di un formato così quando è arrivato il CD che era così io ho cominciato dentro di me a dire hai cioè con l'LP tu crei una scenografia perché hai uno spazio di azione che puoi fare un film già sul CD cominci a far vedere solo la faccia cioè non puoi più permetterti di fare tanto quando ho visto arrivare quella scatola di plastica con la mela morsicata ho detto buonanotte perché ho visto iTunes cioè mo siamo un francobollo e poi quando ho visto arrivare al digitale ho capito che chiunque sarebbe diventato un fotografo come oggi le tecnologie come diceva il grande Ennio Morricone purtroppo sono delle grosse scorciatorie così con la musica oggi ci sono la maggior parte dei ragazzi che fanno i fonici non hanno la minima idea di cosa sia la compressione del suono che è fondamentale la compressione del suono è fondamentale lavorano su preset hanno queste macchine dove tu hai preset con scritto Abbey Road e tu metti la compressione di un disco di David Bowie si buonotte ogni cosa è diversa un tecnico di suono deve studiare uno che fa il fotografo di moda deve studiare ma studiare bene deve avere una libreria fotografica la libreria fotografica è importante perché a volte tu ti butti in un progetto guarda mi è capitata una cosa da morire da ridere è venuto da me in studio un ragazzo che voleva fare un progetto in musica elettronica mi fa sentire delle cose poi io gli faccio sentire un altro progetto prendo un cd lo metto su e lui fa mazzo oh bro sai come fanno oggi oh zio furtissimo caspita questo viso ha due palli chi è questo signore si chiama Abreanino ma quando è che è uscito sto disco sto disco nel 67 cioè andato via non si è alzato più devi sapere se fai musica elettronica devi sapere chi sono i craft devi avere e così come se fai il fotografo devi sapere chi sono se no ti ritrovi a fare delle copie capito è vero è vero però devi studiare studiare e poi ti dirò una cosa è doloroso confrontarsi con gli altri perché quando tu hai dei tuoi progetti delle tue idee e vai a documentarti scopri che la cosa che avevi in mente tu l'ha fatta uno trent'anni fa io ho sofferto tantissimo quando facevo sperimentazione che volevo fare allora un grande fotografo io feci il corso in America di fotografia mi disse ascolta fai una cosa copia non ti vergognare di copiare mi disse ascolta se tu hai talento quando copi e sei in buona fede vedrai che dalla copia tu farei qualcosa di diverso dalla copia e diventerà il tuo stile ma non fare che non ti documenti perché hai paura di vedere se no casca tutto vai a fare veramente allora delle copie fatte male ti piace Anile Bovis benissimo fai le foto come lei usa le stesse luci falli identiche vedrai che la modella sarà diversa le tue angolature saranno alla fine perché tutti hanno uno stile nessuno ha inventato niente è una presunzione enorme quella di dire io invento un genere capisci bisogna insomma ci vuole una grande umiltà guarda c'è stato c'è stato un momento diciamo su un set fotografico dove non vedevi l'ora di finire perché non riuscivi a dare il meglio o il modello la modella l'artista quello che era non riusciva sì molte volte molte volte mi è successo non posso fare il nome sì sì certo è successo si sta a venire alle mani addirittura è successo con tanto perché c'è un momento di allora bisogna pensare che il fotografo e il cantante sono come due cani e sono tutte e due molto tesi il cantante sta uscendo con un disco perché quando fa le foto e quando esce con un disco il cantante non è mai contento al cento per cento sai non può più tornare indietro magari dice potevo farlo meglio così è nervoso non sa cosa il fotografo la responsabilità dell'immagine è al discografico certo 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 per cui non siamo in una situazione di relax siamo tutti così tutti tesi c'è quella tensione c'è la tensione se le cose vanno bene ci si dà manforti se le cose vanno male a benzina salta il bidone per cui sì facilissimo Ale che ti devo dire salutiamo i nostri ascoltatori andiamo avanti io ti ringrazio mi hai dato la possibilità di esporre questa parte della mia vita importante per concludere è stato un mondo meraviglioso veramente dove ci siamo divertiti e guadagnando anche dei bei soldi oggi è un lusso che mi sembra da quello che vedo in giro pochi eh sì non eravamo stressati eravamo così oggi vedevo anche gli uomini più ricchi del mondo hanno delle facce sono stressati è vero sono molto tristi sì 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 bene Alessandro dai un abbraccio a tutti grazie di cuore per la tua disponibilità è stato un piacere grazie a te io amici vi aspetto tutti alla prossima chiacchierà come avete visto e sentito con aneddoti curiosità e tanto tanto altro un grosso abbraccio da Massimo ed Alessandro Gerini ciao a tutti ciao 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 ciao